Vuoi essere il nostro terzo? Non so cosa rispondere. La mia squadra ha bisogno che io sia in forma per arrivare a qualificarsi. Non vorrei essere uno straccio il giorno in cui dovremo gareggiare? Ti abbiamo sottoposta degli allenamenti molto intensi alla Wonderballs Academy e li hai sopportati molto bene. Ammetto che mi sono fatta valere ai tempi dell'Accademia, ma io non credo che i miei compagni approverebbero se mi allenassi con degli avversari. E chi dice che devono saperlo? Pensaci bene Rainbow Dash. Questa è la tua occasione di volare con i vincenti. E va bene, affare fatto. Ah, saggia decisione Rainbow Dash. Grandioso! Mi dritte, poni, mi dritte! Volante, volante, volante! Avanti, Volk Biceps! So che ce la puoi fare! Io, io se non prendo per prendere il testimone, se tu vuoi passarmelo. Voi due, continuate gli esercizi. Io intanto andrò a prendergli un po' d'acqua. Sì! 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 Non deve essere facile allenarsi con due team, dico bene. L'hai scoperto? E lo sanno anche gli altri. Tranquilla, loro sono troppo impegnati a chiedersi dove vai quando scompari. Ma così ho visto le altre squadre in azione e penso che riusciremo a qualificarci. Posso recuperare tutto lo svantaggio iniziale. Mi sembra che una delle due squadre con cui ti alleni abbia più bisogno di aiuto rispetto all'altra. Ma è molto più divertente allenarsi con dei vincenti che... con dei non vincenti. E inoltre Bonnville si qualificherà comunque. Rainbow Dash, hai un minuto? Eh, ma certo. Tu sei una grande risorsa per la squadra, perciò vorremmo che tu entrassi nel nostro gruppo in maniera stabile. Oh! Sembra che Fulmine non si riprenderà in tempo per le gare. Vogliamo che tu voli con noi. Ovviamente questo significa che non potrai più gareggiare per Pony. Ma diciamoci la verità. Anche con te in squadra le loro chance di qualificarsi i giochi sono molto scarse. Allora, qual è la tua risposta? Beh, ecco io. Prenditi del tempo per pensarci. Vogliono che io voli insieme a loro. È come un sogno che si avvia per me.